Allora, voi siete inseriti all'interno di un progetto più grande che si chiama TACT Festival. Il TACT è un festival teatrale Under 35 in cui abbiamo più di 110 attori da tutto il mondo, 11 compagnie. E la mattina sono stati appunto pensati questi spettacoli per voi. Adesso verranno chiuse tutte le luci e succederà qualcosa di veramente speciale su questo palcoscenico. Vi lascio lo spettacolo, divertitevi e ridete! Grazie a tutti! C'era una volta un teatro bellissimo. In questo teatro venivano rappresentate tantissime storie. Storie di buoni, storie di cattivi, storie che facevano ridere, storie che facevano piangere o pensare. Ed il teatro era sempre pieno di bambini che si divertivano e applaudivano. Storie di buoni, storie di buoni, storie che facevano potrebare! Grazie a tutti! Grazie a tutti.